Sì, è un paese che rincorre, infatti il Premier Conte ormai non fa altro che il tour delle emergenze, dei punti drammatici. Siamo solidari, perché adesso stava risolvendo, cioè provando a ragionare sulla questione Ilva e nel frattempo è dovuto partire per Venezia, no? Sì, anzi così diciamo avrà almeno un giorno di tregua sull'Ilva, che non dovrà gestirsi la cosa Ilva. Io però ritengo che la polemica sul Veneto sia piuttosto inutile, dirò di più, credo che se il Veneto avesse la sua autonomia il MOSE ci sarebbe già stato, se non fosse un progetto del Governo centrale ma fosse un progetto della Regione Veneto, il MOSE ci sarebbe già stato e con il residuo fiscale che paga allo Stato il Veneto potrebbe tranquillamente sopperire e sanare i danni di Venezia, questo secondo me è il punto, io la ribalto dal punto di vista grillino. Venezia è in questo Stato proprio perché il Veneto non ha l'autonomia. Francesco Pasquino? Ma probabilmente...